Ciao Richard, ormai è qualche giorno che ti alleni, come trovi la tua forma fisica? Siamo arrivati a giocare qualche gioco qui e poi arrivare la settimana a continuare qui. L'Ambri Piotta, giovedì e sabato scorso, ho giocato due amiche che voglia ha su se, tu non eri presente, non eri ancora pronto fisicamente? Sì, ho venuto da Los Angeles, un giorno lungo viaggio, e ho fatto alcuni problemi di visa quando sono tornato, mi è stato un po' di tempo per acclamare con il cambiamento di tempo, quindi sono sicuro che giocherò questo weekend. Puoi dirci come si è svolta la tua preparazione individuale negli States? Beh, non c'è qualcosa di diverso da negli ultimi 19 anni. Siamo in una posizione in cui ho ottenuto l'esperienza e il sapere per fare quello che è giusto per me e quello che ha funzionato nel pasto. Sì, mi sento bene. Ti sei per caso allenato con qualche giocatore della NHL? Sì, sai, in nostro gruppo, io traino in un gruppo, ci sono alcuni ragazzi. Questo summer, con i giorni, non c'erano probabilmente nemmeno nemmeno come nel pasto, ma specialmente lasciando l'epoca, ma è stato un buon summer. Alla presentazione ufficiale Lava Lascio ci è stato riferito che saresti tornato con alcuni giorni di ritardo rispetto agli altri stranieri per via di alcuni problemi. puoi spiegarci meglio cosa è successo? In in ec cousins di August? Qualcun problema era? Oh, nulla. Ci sono problemi di fare nobbi e suonbbi che stiamo cercando di coordinare perché la consulata sull'Angeles ha fermato per riferire i visa, quindi l'unica consulata che fermo era San Francisco che è una attività di volante, e riferiamo a Lars Cronenzi, e noi coi cercare di decidere dove fosse la migliore per andare e prendere un visa. Alcuni rumors al termine della scorsa stagione ti volevano come un possibile partente, erano soltanto voci di corridoio. Siamo davvero sperando di fare le cose migliori come squadra questa settimana. Come hai potuto vedere dai primi allenamenti, ci sono molti volti nuovi in questa ambripiotta. Uno fra questi è Alexandre Giroud. Per caso Serge Pelletieti ha già detto se giocherà in linea con lui? Oh no, io credo che questa è una cosa del nostro team. Sono così buoni ragazzi che non sbagliano con chi giocherà. E' così come dovrebbe essere. Per quanto riguarda i nuovi ragazzi che abbiamo aggiunto, i ragazzi che abbiamo giocato l'anno scorso lo conosco da un po' e mi piace davvero le addizioni che abbiamo fatto in termini del personale. Deve essere interessante e le nostre aspettazioni sono sicuramente più di questo anno che l'anno scorso. L'anno scorso. I tifosi sono un po' divisi sul ruolo da fidare a Richard Park. Certi lo vedono come un ottimo playmaker abile a supportare un'ala sniper. Altri lo vedono come un centro difensivo da schierare contro il miglior blocco offensivo della squadra avversaria. Tu personalmente come ti vedi? Io sono quello che sono. Io continuo di essere il giocatore che ho lavorato durante 19 anni. E io fareò quello che è necessario per aiutare la squadra a venire. Quindi, sai, questo è appena con la staff di coaching e come andiamo come squadra. Quindi, sai, aspettiamo e vediamo. I numeri non mentono, sei il giocatore più vecchio della squadra, questo vuol dire quello con più esperienza. Senti questo ruolo, senti di dover condividere questa esperienza con i più giovani. Io davvero ho piaciuto, soprattutto i ragazzi di nostro team, Inti e Daniel e la lista continua. Io davvero ho piaciuto lavorare con i ragazzi. Credo che sono dei ragazzi sui l'isola e sui l'isola. Credo che hanno molto potenziale per essere davvero buoni in questa liga per un lungo tempo. Quindi, qualsiasi consigli o qualsiasi tipo di esperienza che posso raccontare con loro. Sono tutto per questo e mi piace di farlo. E, sai, è veramente gratificante e rilassante per me quando vedo che questi ragazzi fanno bene, perché sono così buoni figli. La parola play-off, si può tornare a utilizzarla oppure no? No, credo che non c'è nulla con la play-off. Credo che sia un obiettivo realistico e esperienza di nostro club. È una cosa, credo, se sei non capabile di fare la play-off. Ma guarda la nostra squadra e siamo molto solidi. Sì, dai, 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 dai. Quindi, siamo venire come squadra e anche per lo loro. È importante che tutti giochino come unità. Ci sono alcuni dei rinchi, ci sono sempre una, ma spero che sappiamo di avermi ricordato dai errori che abbiamo fatto l'anno scorso. not repeat those mistakes so that we can be better and a little bit more consistent